Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Totò Schillaci, ex calciatore di 59 anni, è stato ricoverato da giorni presso l'ospedale civico di Palermo. Le sue condizioni sono gravi e seguito dallo staff medico di pneumologia. La situazione desta molta preoccupazione e i dottori stanno facendo il possibile per aiutarlo. Ricoverato nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo, Totò Schillaci si trova in condizioni gravi. I medici hanno emesso un bollettino in cui si parla di una situazione delicata, ma stazionaria. L'ex calciatore combatte da anni contro un tumore al colon ed è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. La moglie di Totò Schillaci, Barbara Lombardo, è sempre stata al suo fianco durante la sua battaglia contro il tumore al colon e è anche adesso che si trova in ospedale. Con loro ci sono anche i tre figli dell'ex calciatore, Jessica, Nicole e Mattia. Totò Schillaci ha affrontato pubblicamente la sua battaglia contro il cancro al colon, parlando della diagnosi, della depressione post-operatoria e della rinascita con Pechino Express. Secondo alcune indiscrezioni, l'ultimo ricovero sarebbe dovuto alla ripresentazione del tumore in forma più aggressiva. La situazione di Totò Schillaci è seguita con attenzione dai media e dai suoi numerosi fan. Da anche sperano in un'antiquattere e nei superamenti di queste.